Amici Youtube, Pino Udace Allora ragazzi, ieri non ho avuto tempo di dare le pagelle tra influenze e robe varie e andiamo a farlo adesso, andiamo un po' ad analizzare la partita col Giuliano Allora ragazzi, apriamo mezz'ora, giocare dalla Cerignola diversamente prendiamo una lavagnetta tattica questo è un po' il Cerignola che ho disegnato io Allora, nel primo tempo questo è il Cerignola che verticalizza, eh, con Paolucci che aiuta il treno Luca Russo ad andare più spinto per cercare di prendere le due fasce, le due ali in più avevi Coccia quindi Coccia e Russo nel primo tempo non sono stati aiutati da Miguel Sainz Mazza e Tascone tal che il Cerignola la prima mezz'ora non la interpreta male finché arriva il gol del Giuliano il gol del Giuliano e poi il Cerignola prova a reagire ma non riesce non riesce perché il Giuliano è chiusa nel secondo tempo poi in più si rompe Ligi e quindi è ancora Ligi l'otto nel secondo tempo è un altro Cerignola perché cambia tatticamente fuori Paolucci fuori Miguel Sainz Mazza dentro Paolucci in più hai Galo Capomaggio perché Ligi era rotto e quindi lo mette in difesa e Bianchini al posto di Galo in regia con Tascone, Paolucci Coccia e Russo ragazzi cambia tatticamente il Cerignola con Salvemini e Cuppone quindi cambia tatticamente il Cerignola il Cerignola prova a verticalizzare a creare la prima occasione al 51esimo ci prova Cuppone poi Cuppone out e quindi lesione ragazzi adesso non so di quanto si parla ma credo più di 4-5 mesi quindi peccato perché abbiamo perso un giocatore importante come Cuppone spero che ritorni e ho sentito lesione al legamento del Cruciato quindi si parla di 6-7 stagione probabilmente finita credo a me che non rientra a marzo-aprile vedremo come gli è successo a Peter Schurz del Toro che sta per tornare ragazzi importante poi ci parliamo del Toro allora quindi il Cerignola esce per infortunio Luigi Cuppone entra con la maglia numero 17 Giallò e il Cerignola diventa matematicamente una squadra da prateria perché hai Giallò che è uno che corre e quindi cammina il telepass hai Salvemini più arretrato hai le due frecce laterali che sono Paolucci e Russo il Cerignola sblocca la partita grazie al gol di Salvemini ma ragazzi che prateria Luca Russo ma per colpa di Paolucci Paolucci per Russo Russo in mezzo per Salvemini ed è uno a uno il Cerignola cambia faccia cambia mentalità ci prova Giuliano ma non riesce più a entrare nella difesa di Giallo Blu ancora il Giuliano ci prova ma non riesce poi arriva il 2-1 Giallo Blu per Russo Russo ancora prateria mette la mette la mette il turbo e va per Giallo che si trova in mezzo ed è 2-1 Cerignola più o meno questo arriva al 75esimo e poi il gol di Mattia Tascone assist di Giallo sempre più o meno la stessa azione il Cerignola che verticalizza di più e vince la partita ci prova il Giuliano bravo Saracco e poi una o due occasioni che vengono salvate la difesa giallo o blu e quindi ragazzi a livello tattico analizzato la partita adesso andiamo con le pagelle subito Saracco voto 6 e mezzo due parate importanti nel secondo tempo il primo tempo può nulla sul gol del Giuliano passiamo alla difesa Santiago Vicentin voto 7 e più una grandissima partita giocata da Santiago un brutto primo tempo gli avrei dato 5 meglio nel secondo tempo e aiuta alla squadra a farla vincere si passa a Gonnelli voto 7 una grandissima partita di Gonnelli ragazzi brutto primo tempo ma un po' tutta la squadra che non si trova senza il salvatore Paolucci e quindi nel secondo tempo la difesa riesce anche a essere un po' più bassa Ligi voto 6 esce per infortunio sostituito da Bianchini ma ci arriviamo Galo Capomaggio voto 8 grande la partita a retra per far giocare Bianchini al suo posto ma comunque il muro rimane giallo blu nel secondo tempo non passa niente buona partita perché poi si scambia con Bianchini di ruolo buona la partita di Galo Bianchini voto 8 è un giocatore di livello top class quando entra si è visto contro la next gen si è visto nella seconda è un giocatore veramente di grandissimo livello e va a sostituire molto bene Galo Capomaggio Coccia voto 6 mi è piaciuto meno ieri ieri domenica ma comunque va bene sicuramente col potenza proverà a fare la mentalità e ricordo tornava dall'infortunio eh Miguel Sainz Mazza voto 6 più non posso dare di più è un Sainz Mazza che qualcosa ha provato a farla ma non ha aiutato la squadra sostituito da Leonardo Paolucci voto 8 più ancora lui è l'uomo determinante del Cerignola Leonardo Paolucci le sue le sue verticalizzazioni i suoi attacchi verso la porta dall'esterno continuano a essere letali per le squadre avversarie in questo momento il Cerignola si trova in testa alla classifica proprio per questo motivo passiamo all'attacco Salvemini voto 8 il gol dell'ex Salvemini ma comunque è stato importante l'assist di Russo Russo voto 10 Russo voto 10 ragazzi Russo voto 10 non si può non dare 10 a questo giocatore ragazzi non puoi non puoi non dare di più non puoi non dare 10 a questo giocatore ragazzi un secondo tempo incredibile già nel primo tempo comunque mi ha fatto un po' la differenza ma nel secondo tempo con l'innesco della scintilla Russo Paolucci cambia il Cerignola e quindi poi due assist il gol importantissimo Russo ragazzi per questo Cerignola quindi il migliore in assoluto trova il quarto gol assist il quarto assist stagionale ragazzi gli manca il gol ma arriverà Tascone che invece lo trova il gol 8 grande anche Tascone ragazzi ha fatto una grandissima partita Giallò voto 8 trova il gol alla sua prima partita ma comunque un ottimo Giallò mister Raffaele voto 9 il primo tempo in cui la sua squadra non non usciva la strigliata e l'inserimento di Paolucci hanno reso questo gioco Raffaelliano uno dei giochi più belli della serie C ragazzi della serie C io non so le altre squadre ma in questo momento il Cerignola ha in questo momento le carte per lottare per il campionato ragazzi perché secondo me la squadra più completa è una squadra che fa male e anche il Giuliano ragazzi sicuramente con il Giuliano potevamo perderla ma avendo quei tre inneschi ragazzi il Cerignola ha tanta roba e in più hai Giuliano hai Gagliano hai Giallo Gagliano adesso che potrebbero sostituire a malincuore Cuppone però ragazzi importante questa cosa e vado a finire le pagelle adesso ci sarà la Juventus che gioca in Coppa magari andrò a dare un po' spartita e poi c'è Tempation ma farò la reaction di Tempation Island insieme a Torocast con sul canale con ovviamente il nuovo format Reaction Island comunque ragazzi finisco qua seguite ragazzi da Carriero Scarpiastri ci vediamo per i prossimi video bella a tutti e vinaudace mettete like al video e iscrivetevi al canale ragazzi a a